la stagione invernale 2021 è alle porte cosa scegliere pneumatici estivi gomme termiche o pneumatici quattro stagioni ce lo spiega pierangelo misani capo ricerca e sviluppo di pirelli la classica abitudine di avere pneumatici summer pneumatici winter quella che ovviamente da sempre in ogni condizione le migliori caratteristiche di performance e quindi alla fine di sicurezza perché pneumatico summer per sua progettazione nasce per essere un pneumatico che esprime il meglio di sé nelle classiche condizioni di primavera estate quindi in condizioni abbastanza uniforme il winter è un pneumatico decisamente specializzato quindi per chi vuole avere il massimo delle prestazioni durante la stagione invernale non c'è dubbio che tuttora il winter è winter e attenzione winter non è neve come una volta si solleva dire perché l'attenzione non è solo all'attrattività su neve per cui per chi è destinato non è solo chi va in montagna la casa in montagna e è preoccupato di avere a che fare con forti nevicati e cose di questo genere e per chi vuole avere veramente il massimo della sicurezza nelle condizioni classiche invernali quindi anche su fondi asciutti fondi bagnati ma le basse del progetto ma quali sono le scelte che portano all'acquisto di uno pneumatico all season perché oggi assistiamo a una crescita del seguito all season perché le tecnologie moderne hanno potuto dare all season un range di prestazioni così ampio in grado da garantire comunque delle ottime qualità sia nella stagione estiva che nella stagione governale quindi è un pneumatico che certamente è in grado di rispondere a tutti i requisiti di sicurezza di un utente che vuole avere le buone prestazioni la sicurezza sia in strada che libero certamente non potrà mai essere un pneumatico specializzato come invece un summer e un guida l'applicazione quindi può anche essere legata alla tipologia di utilizzo che un utente ne vuole fare o all'area in cui l'utente si trova se un utente vive al mare a delle strade interne dove ci sono anche solo delle regolamentazioni per esempio è molto comodo avere un season per poter effettivamente avere il requisito legale soddisfatto avendo pneumatici appunto marcati in più s sotto la propria vettura e quindi può essere una scelta anche quella quindi alla fine la scelta legata che cosa vuole l'utente dalla performance pneumatico ma anche potrebbe essere certamente dove si risiede difficilmente vedo un utente svedese non fare il classico passaggio summer winter mentre per esempio nelle aree mediterranee è molto probabile che ci siano parecchi utenti che possano sfruttare questo incremento tecnologico dello sito di oggi abbiamo parlato di nuove tecnologie ma quali sono le novità pirelli l'ultima novità pirelli si chiama cinturato winter 2 neumatico invernale 2021 per auto di medie dimensioni con il cinturato winter 2 pirelli porta al debutto alcune nuove tecnologie sviluppate dall'azienda come la lamella del battistrada che si allunga durante l'intero ciclo vita dello pneumatico catturando in questo modo più neve al fine di assicurare maggiore aderenza al suolo quali sono le caratteristiche tecniche introdotte in queste nuove gomme invernali quello che chi distingue il cinturato winter 2 dal vecchio prodotto sono le performance nel campo invernale di bagnato a temperature fredde e di neve che sono state raggiunte con lo sviluppo mutuo e contemporaneo di una nuova mescola con il nuovo disegno andiamo sul dettaglio del disegno battistrada il disegno battistrada è fortemente caratterizzato da una cosiddetta V shape quindi una forma a V molto pronunciata questo ci garantisce da progetto già un'ottima evacuazione dell'acqua ricordiamoci che abbiamo detto che l'inverno non è in tutto il mondo caratterizzato dalla neve in tante aree geografiche inverno voglio dire anche strade bagnate maltenute e con rischi di acquaplano che mettono a repentaglio la sicurezza dell'utente quindi la forma a V ci dà già un primo una prima scelta per soddisfare la performance dell'acquaplano ma ci dà un altro vantaggio ci permette di mantenere questa performance anche durante la tutta la vita e l'impiego del pneumato ricordiamoci che la lamella come come funzione quella di intrappolare la neve e quindi creare quella condizione di attrito neve su neve che è l'ideale per la trazione e la frenata su fondi innevati un obiettivo e una performance del nuovo cinturato winter 2 che i tecnici sono posti sul tavolo è garantire le performance durante tutto il ciclo di vita del pneumatico per fare questo si è lavorato anche sulla lamellatura in particolare sulla lamellatura e si è definita una forma e una geometria della lamellatura che può compensare durante l'utilizzo del pneumatico la riduzione dell'incavi mattistrada questa lamella che si presenta da nuovo in una forma rettilinea diventa con il con l'utilizzo una forma sinusoidale a zig zag aumentando quindi la propria lunghezza effettiva e siccome è proprio grazie al meccanismo di intrappolamento della neve che si genera il grip tra pneumatico e fondo innevato l'aumento di questa lamellatura durante il ciclo di vita del pneumatico garantisce la costanza della performance anche nelle stagioni successive la gomma all season forse sì non vince mai contro summer e winter perché confrontiamo un all season nella situazione di massima efficienza di un summer e di una massima efficienza del winter quindi quasi due situazioni non voglio dire estreme ma molto particolari il season è quella pneumatico che permette di non doversi preoccupare del pneumatico stesso la sicurezza in ogni condizione che si può trovare durante tutto l'anno è qualcosa che dà una serenità di approccio verso la mobilità c'è tutto un range di performance che sono quelle che noi affrontiamo tutto l'anno che non sono né il caldo estremo e neanche la neve appena caduta e in queste condizioni che noi dobbiamo capire se pneumatico season che ci offre pirelli è adeguato per le esigenze della mobilità e dobbiamo dire di sì perché è così che abbiamo lavorato negli ultimi anni ed è così che abbiamo spinto a trovare un un equilibrio e quindi un nuovo equilibrio di rigidità di battistrada e perché proprietà meccaniche della mescola che hanno portato a questo risultato il risultato per cui lo season è in realtà una scelta competitiva grazie a tutti